Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti al consueto appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Come sempre sfoglieremo i quotidiani, però prima della rassegna vediamo le previsioni del tempo e poi il santo del giorno. Oggi è San Benedetta Cambiaggio, il sole è sorto alle 6.09 e 18.21. Previsioni del tempo, guardiamo subito la webcam posta sopra la nostra sede, vedete il cielo si presenta in questo modo questa mattina e naturalmente anche le temperature sono per quanto riguarda la nostra postazione, vediamo, volevo farvi vedere le temperature della nostra postazione, non si vedono, passiamo alle previsioni per sabato 21 appunto quelle della protezione civile, cielo sereno poco nuvoloso con aumento delle stratificazioni nel pomeriggio, precipitazioni nella serata, deboli piovaschi nelle zone interne, le temperature senza variazioni di rilievo. Vediamo quelle per la domenica, vedete compare la pioggia, il cielo è nuvoloso, nella seconda parte della giornata deboli e diffuse e più insistenti nel settore sententrionale, quindi il nostro settore della regione in lieve aumento le temperature dei minimi, le previsioni per lunedì, il cielo è inizialmente nuvoloso con schiarite a partire da nord verso sud nel corso della mattinata, quindi insomma la giornata di lunedì andrà un po' meglio per quanto riguarda naturalmente le precipitazioni, saranno sparse a carattere di piovasco, però insomma andranno in esaurimento nella mattinata. Vediamo la tendenza poi per il proseguo della settimana, saranno caratterizzate da variabilità con frequenti precipitazioni e quindi avremo un tempo variabile nel corso della settimana a venire. Bene, entriamo nelle pagine dei giornali, iniziamo dall'arresto del Carlino di Fano che emette subito la notizia dell'incidente che è costata la vita al ragazzo a Miami, travolto in auto da un'auto a Miami resta ucciso il 29enne di Marotta, schianto a un incrocio, aveva coronato il suo sogno, un locale tutto suo e la realizzazione naturalmente di questo sogno lavorando negli Stati Uniti d'America a Miami. La famiglia è stata avvertita ieri mattina all'alba, il padre gestisce una pescheria a Mondolfo. Ancora sempre rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino che riguardano Fano, cambiamo completamente argomento l'avversario è stato bravissimo, ho perso ma la mia vita resta dolce. A parlare è Augusto Palazzi che nel cooking show della Clerici Dolci dopo il Tg purtroppo non ce la fa ad aggiudicarsi il primo posto e quindi sfuma l'assegno da 100.000 euro, però dice per me è stato un successo, certo quei 100.000 euro facevano comodo, la crema è stata galeotta, una crema che riguardava la sua preparazione non gli è riuscita nella maniera ottimale e questo gli è costato la prima piazza dello show. Ancora dalle pagine del Carlino andiamo a Marotta, il passaggio a livello e le mancate modifiche, il comitato contro il comune, la nostra battaglia inizia ora, ci rivolgeremo a ogni sede per difendere il territorio perché è una cosa senza logica, dicono c'è un senso logico nell'affiancare un sottopasso carrabile ad uno esistente nella zona ad alto rischio idrogeologico, queste sono le domande che si pone il comitato e poi il brutto incidente avvenuto in A14, una posh urta una mini con 5 studenti a bordo, poi fugge, è stato denunciato perché la polizia stradale ha rintracciato poco dopo l'auto e il suo conducente è stato denunciato per omissione di soccorso, i ragazzi stavano tornando da una lezione a Urbino in università, andavano, rientravano ad Ancona, uno dei loro è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, insomma poteva andare sicuramente peggio, invece tutti feriti in maniera lieve. Rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino, vediamo cosa succede e che cosa riportano per quanto riguarda le pagine di Pesaro, c'è un cantiere che sta tenendo commercianti e residenti sul piede di guerra perché è un cantiere infinito, dicono, stiamo parlando del cantiere di via 9 febbraio, situazione un po' sottovalutata perché i lavori all'edificio Ex Morselli occupano sia il marciapiede che la strada, siamo nella zona di fronte agli ambulatori della USL, questi sono appunto l'ingresso della sede, vedete a che cosa sono costretti i passanti e qui c'è il comitato che giustamente dice che non si può andare avanti così, il passaggio pedonale è un pericolo e che cosa giustamente chiedono? Che i lavori vengano ripresi e conclusi quanto prima per tornare alla normalità. Naturalmente speriamo tutti quanti che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Allora, vi ricordate il maltempo e il vento di qualche settimana fa aveva causato qualche danno alla struttura dell'ospedale, al cono che insomma convoglia la luce all'interno dell'androne del tribunale ebbene per metterlo in sicurezza una operazione spettacolare. Ieri sicuramente anche come impatto visivo altamente spettacolare, vedete questa gabbia di tubi innocenti del peso di 10 quintali che si sta tentando di mettere sopra il cono per metterlo in sicurezza, però le misure della gabbia sono sbagliate, la gabbia troppo stretta e tutto da rifare, una giornata un po' persa. È un costo anche importante e quindi vediamo che l'operazione non è andata, come vedete nelle foto, come doveva andare e si è rimandato tutto. Giornata mondiale della sindrome di Down viene sottolineata dal resto del carlino in questo modo, lavorano, suonano e scrivono, sindrome di Down via i tabù, nella giornata mondiale questa malattia viene raccontata da chi la vive. Qui c'è una fotografa, una bravissima fotografa, Letizia Di Paolo di 24 anni che ha fatto una mostra e vedete durante l'inaugurazione grande affluenza di pubblico. I genitori si organizzano a mettere in rete le esperienze e le capacità. Vanno naturalmente sostenute le famiglie che hanno appunto questa, insomma i figli oppure occupanti del nucleo familiare con questa sindrome, vanno sostenuti e vanno affiancati. Comunque questa è una giornata dedicata appunto a questa malattia. Cambiamo il quotidiano, passiamo al messaggero, apriamo con la pagina di Pesero. In provincia nasce un unico museo a 8 euro, sia la bigliettazione comune tra Pesero, Fano e Urbino, in rete un grandioso patrimonio culturale. Questo avviene anche in altre città d'Italia e soprattutto all'estero. Fare rete è quanto mai utile perché così, insomma, chi viene nel comprensorio sia che alloggi a Fano, sia che alloggi a Urbino, sia che alloggi a Pesero, perlomeno, ecco, gira gravità attorno a tutte quelle che sono le eccellenze del territorio in questo modo. Si incentiva anche una mobilità turistica su tutta la provincia e anche con una politica dei prezzi giusti si incentiva tutto questo. Andiamo nelle pagine di Fano, del Corriere Adriatico, un incidente che è accaduto sabato scorso, cade al pronto soccorso e è gravissimo, è stato trasportato dal 118 che era stato allertato e lo era andato a prendere a casa nelle prime ore del pomeriggio, poi verso le 19.30 è stato trovato riverso vicino alla barella con una grave ferita e sanguinante e, insomma, su questo episodio ci sarà da fare chiarezza. Il dirigente Cattò dice che era sotto stretta osservazione, ha avuto un malore, ampio ematoma alla testa, però la famiglia vuole vederci chiaro, sembra appunto intenzionata a promuovere ulteriori accertamenti su un fatto così grave avvenuto al pronto soccorso di Fano. Andiamo a vedere la pagina del messaggero di Pesaro, quindi cambiamo testata, vediamo l'ultima nostra disposizione, in testa una dichiarazione di Drudi, la fiera per Pesaro Studi dell'Università sembra segnato, ma la Camera di Commercio lancia una proposta, l'ente che ha già tagliato il proprio contributo mette a disposizione gli spazi di Campanare come sede di Pesaro Studi. Qui vedete nella fotonotizia la foto del giovane deceduto a Miami e poi a piedi sul cavalca ferrovia i vigili scortano per salvarlo, nonostante il divieto, l'uomo camminava in mezzo al traffico, questo è un fatto di cronaca. Andiamo a vedere all'interno appunto gli articoli che riguardano questa edizione di sabato del messaggero Pesaro Studi negli stand della fiera. Qui c'è tutta spiegata la possibile evoluzione di questa vicenda e anche qui viene riportata l'operazione di ingabbiamento del cono con la gru che stava tentando di incalzare la struttura sul cono del tribunale. Cultura è scontro su 3 milioni, parliamo appunto del bilancio, le cifre in bilancio non convincono l'opposizione, non ci sono fondi sufficienti per mostre ed eventi. Bettini di Forza Italia dice che gran parte dei finanziamenti finiranno a ROF e Nuovo Cinema, nessuna traccia per il rilancio annunciato e quindi insomma come spesso avviene la cultura in tempi di spending review è quella a farne un po' le spese, ahimè purtroppo. Pagina di fano del messaggero, ancora la questione del dragaggio, i fanghi saranno trasportati via mare, dalla regione buone notizie dice Massimo Seri l'operazione costerà meno e appunto il sindaco ribatte a critiche e ipotesi dei 5 stelle che erano state avanzate. Cantiere nel corso, un piano anti disagi e quindi i lavori per le tubature dell'acqua concordati con i commercianti. Si parte il 12 aprile, primo stop il 30 giugno e ripresa solo dopo la stagione turistica. Lunedì assemblea con gli operatori che naturalmente sono preoccupati perché insomma un cantiere in piena stagione estiva nel pieno centro di fano non è proprio l'ideale per offrire una città ai turisti in tempo estivo. Vi segnalo un'ultima cosa dalle pagine del messaggero, nella pagina che riguarda gli spettacoli, insomma un cantautore tra i più amati a livello italiano, Branduardi, sarà al Sanzio in cammino per l'Europa. Domani una serata, la data del suo tour del Menestrello d'Italia, insomma tutti quanti ricorderanno sicuramente le sue canzoni, una buona occasione per andarlo a sentire dal vivo. Bene, con questa notizia chiudiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. La Rassena Stampa torna lunedì mattina alle 7.30 e questa sera occhio alla notizia alle 20.30. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi.